Noi di Didel lo sappiamo, è il rotolo di carta igienica finito a farvi entrare. Questa settimana speciale fuorisede. Pasta con tonno, confezione da 500 kg a 1,99 euro. Tenda da esterno per accamparsi fuori dall'istituto, articolo in prima pagina incluso a 1,99 euro. Pasta con tonno a 99 centesimi. Set di giochi per animali domestici o addobbi per infestazione e infesta a 2,99 euro. Pasta con tonno a 3,99 euro. Presa elettrica non a norma, offerta lampo a 4,99 euro. E pasta con tonno a 4,999 euro. Sei più fuoricorso che fuorisede? Usa il codice BUTTATEMIFUORIACALCI23 per usufruire di uno sconto sulla pasta col tonno ed essere buttato fuori a calci. Ma con della pasta col tonno. Didel, anche no.